Musica Buongiorno a tutti e bentrovati con informazioni di Molise TV. Oggi è mercoledì 13 aprile e come di consueto iniziamo il nostro appuntamento dedicato alla rassegna stampa le donne insieme le notizie del quotidiano del Molise. In risalto la Cattolica gela la Regione, dura nota della Fondazione sulla nuova proposta sanitaria, impraticabile e inaccettabile. Doccia fredda per frattura ruta e leva che avevano avanzato la nuova proposta, ieri lo stop della Cattolica. Cogestione non compatibile, poi ancora non riceviamo nulla, la replica del Governatore prima il confronto. Nel taglio alto De Matteis vogliamo il rinnovo, centri per l'impiego, giornata decisiva per i 26 precari, si apre uno spiraglio per i lavoratori. E Asrem è sosto il direttore generale che sostituisce Pirazzoli, frattura e competente professionale. E ancora nel taglio alto la Molisana, top brand in Italia e all'estero non ha rivali. E poi Castelmauro, arrivano i migranti e poi si danno alla macchia, hanno lasciato il paese dopo un solo giorno. Termoli e l'abbraccio della città, il 18enne ha coltellato, fondato il Comitato contro le violenze. E pedofilia online, Pol Post e FBI incastrano Molisano, un 60enne residente in un paese del Basso Molise, finito nella rete di Pol Post e FBI. Sul suo computer sono state trovate foto compromettenti di minorenni. Passiamo allo sport, Serie D, Campobasso, Capitan Gattari dovrà stare fuori tre settimane. Juniors Cup, quattro rosso-blu convocati nella selezione del girone F, poi ancora Serie D, Mazzocco e Isernia. Non siamo squadra da retrocessione, calcio a 5, Isernia, arriva la prima importante conferma, Rafinha dice sì. E proseguiamo adesso il nostro appuntamento, le donne insieme le notizie del quotidiano online, tutto Molise. In risalto Consiglio regionale del Molise, apertura dei lavori con una mozione avente ad oggetto verità e giustizia per Giulio Reggeni. Proseguono poi i lavori con la discussione dei successivi punti all'ordine del giorno. E ancora a Camera di Commercio un'ulteriore risposta concreta alle esigenze di imprese e giovani che hanno partecipato con entusiasmo al progetto Eccellenze in Digitale. E nel taglio basso, nuovi investimenti allo stabilimento della Molisana che si posiziona tra i cinque brand nazionali. Andiamo adesso avanti con le notizie di Primo Piano Molise. In risalto, anche in questo caso, troviamo l'alto là di Fondazione Università Cattolica. La governance non si tocca. La modifica dello statuto annunciata da Frattura, Ruta e Leva, in modo irrituale, in sede non istituzionale, tecnicamente impraticabile e comunque inaccettabile da parte dell'Ateneo. Il governatore replica, avanzeremo la proposta solo se emergerà un'ampia e convinta condivisione con le parti sociali. Nel taglio alto, la vertenza, centri per l'impiego, oggi la soluzione per i 26 precari. Dopo l'occupazione di Palazzo Magno e il confronto con Regione e Provincia, l'amministrazione De Matteis ha chiesto un parere legale sulla proroga dei contratti fino al nuovo avviso pubblico. Isernia, primaria del centro-sinistra, le siti 4 seggi, domenica si vota dalle 8 alle 20. E poi Gennaro Sosto, il direttore generale dell'ASREM, bella sfida che raccolgo col massimo impegno, l'intervista all'ingegnere di Corigliano Calabro. Nel taglio laterale Campobasso, estigazione al terrorismo illegale del Somalo, va scarcerato davanti ai giudici di riesame. L'avvocato di Renzo ha ribadito, non è un imam. Termoli ha coltellato un coetaneo, 17 anni albanese, trasferito in una struttura di accoglienza per minori. Intanto migliorano le condizioni del ferito ricoverato in chirurgia al Santimoteo, nel taglio basso politica e lutto. L'addio a Casaleggio in Casa 5 Stelle è stato un genio del nostro tempo. Federico Immanzo ci ha fatto capire che contano le idee. Di Pietro, riferimento per i delusi. Proseguiamo adesso il nostro appuntamento con una notizia proveniente dall'Abruzzo, in particolare dalla zona di San Salvo. Mallore, mentre gioca, muore bimbo di tre anni, disposta all'autopsia. Vediamo adesso le notizie sportive. Dall'infermeria, Lupi, Mazzata, Gattari sarà out per tre settimane. Il capitano salterà a Matelica Giulianova e Folgore. La classifica, il K.O. del San Nicolò, lascia il sesto posto a meno otto. Per il rosso-blu i play-off sono vicini. Poi il ritorno, la vastese si affida a Pino De Filippis per superare il momento difficile. E continuiamo adesso il nostro appuntamento. Le giorni insieme le notizie della Gazzetta del Molise. La prima pagina della Gazzetta del Molise titola Con sanità molisana siamo carne da macello. Il nuovo direttore generale, Gennaro Sosto, viene dalla Calabria. Amico degli amici per la Cattolica, inaccettabile la proposta della regione. Ci rimettono sempre i molisani. L'Oscar del giorno è stato assegnato a tecla Boccardo, mentre il tapiro a Pierpaolo Nanni. Proseguiamo con la lettura delle pagine interne. A pagina 2, quel pasticciaccio brutto di Palazzo Magno. Ingenuità e leggerezza, frammista e generosità da parte del presidente della provincia dei Matteis, mal consigliato dalla struttura che lo assiste. 26 co-co-co del centro per l'impiego, prima illusi e poi mandati a casa. Nel taglio basso, l'intervento di Alessandro Di Labbio è titolato l'irresponsabilità di Micone. Proseguiamo con la lettura delle pagine interne. A pagina 3, co-gestione col Cardarelli, inaccettabile. Fondazione Giovanni Paolo II e Cattolica non comprendono la programmazione riformulata dalla regione. Nel taglio basso, Cattolica, se ci sarà condivisione, avanzeremo la proposta immediata alla risposta di Paolo Frattura e Di Giacomo, bastonato dalla Cattolica, il trio delle meraviglie. Ancora Gennaro Sosso, vicino al nuovo centrodestra, direttore dell'ASRE. Vediamo adesso insieme le notizie di Agenzia Stampa Molise. Il risalto campo basso, movimento consumatori, torna sulla questione bollette dell'acqua. E poi Isernia, operazione dei Carabinieri, una persona arrestata e 11 denunciate. Ancora Isernia, da chi le riqualifiche progetti della passata amministrazione, tenta di vincere le primarie. Gruppo Il Molise di Tutti, emergenza criminalità e patto per la sicurezza dal Ministero dell'Interno, nuova convocazione e apprezzamento al molese. E ancora Isernia, Cosmo Tedeschi, scende in campo con sei liste civiche. E Filippo Roma, inviato delle Iene, ospite dell'Università del Molise di Campobasso. E restiamo a Campobasso, Lello Bucci, trasporto urbano, l'immobilismo della regione molise verso progetti del Comune, sta diventando una consuetudine. Dai quotidiani locali passiamo a quelli nazionali. Vediamo insieme la prima pagina della Repubblica. La prima pagina della Repubblica titola con addio Senato, ecco la nuova Costituzione, storico voto, l'opposizione diserta, il premier vittoria di Napolitano, la sinistra PD, modificare l'Italia, come poi le lacrime dei 5 Stelle per Casaleggio, Grillo, vinciamo le politiche o lascio. Andiamo adesso avanti con le notizie del Fatto Quotidiano. In risalto ai 5 Stelle, senza papà, la morte di Casaleggio, il cofondatore del movimento scomparso a 61 anni, è Renzi, ultima raffica alla carta, ma crescono i votanti in un triv, nuovo Senato, le opposizioni lasciano l'aula, per Boschi 361 sì al passaggio finale, poi la denuncia, l'edilizia illegale non va in crisi, il Bel Paese nel 2015 costruite 50 case abusive ogni 24 ore. Continuiamo adesso il nostro appuntamento, le denuncia e le notizie di Libero. Pensioni di reversibilità, ecco quelle che rischiano in un documento ufficiale l'intenzione di trasformare l'assegno agli eredi da prestazione dovuta a trattamento assistenziale da erogare in base al patrimonio, un furto di miliardi di contributi versati e il governo così ci riprova. E poi è morto Casaleggio e il grillo silente, ora il movimento cambierà così. Nel taglio basso Renzi in fuga dai fallimenti di Mister Expo dopo lo scope di Libero sulle aziende non pagate. E il problema del Milan non è l'allenatore, su unirato Mihailovic la panchina va a Brocchi. Vediamo adesso insieme le notizie di avvenire. Ultimo sì alle riforme, ora tocca agli italiani, opposizioni fuori dall'aula, referendum a ottobre, approvati il cambio del Senato, le nuove norme costituzionali, il piano del Premier per la consultazione, nei comitati giovani e manager, e poi Brenner o l'Italia protesta. Vediamo adesso insieme le notizie sportive e la prima pagina del Corriere dello Sport. In risalto Brocchi il futuro è con Lippi, l'ex CT candidato a fare il tandem con il nuovo tecnico Berlusconi. Torniamo all'altezza della nostra storia. Subito più italiani, Milan la svolta non è finita, e tra Berardi e la Juve era tutto già scritto. Il colpo bianconero, nel taglio alto Ronaldo, superimpresa, il trist salva Real Zidane, Champions, tre gol del portoghese, semifinale, il City elimina Ibra, e stasera Atletico Barcellona. Ancora a sport, vediamo insieme le notizie della Gazzetta Sportiva. In risalto l'azzardo di Silvio, Gagliani non era d'accordo con Berlusconi, sul web monta la protesta dei tifosi, il nuovo tecnico del Milan a sette partite per convincere. Ha scelto Brocchi contro tutto e tutti, nel taglio alto lo mostruoso Ronaldo, Zizù è salvo, il City fa fuori Ibra. E con questo è veramente tutto, grazie per aver scelto l'informazione di Molise TV, vi lascio al meteo e vi auguro una buona giornata. Arrivederci. Il meteo è offerto da Con noi la famiglia raddoppia gli acquisti, dai un calcio alle rinunce quotidiane, spendi e risparmi di Molise TV, e la famiglia torna a sorridere. Previsioni del tempo per mercoledì 13 aprile. L'alta pressione si indebolisce parzialmente, stante il transito di una perturbazione sui Balcani, che porta a stratificazioni e annuvolamenti in transito, con possibilità di qualche fenomeno suddorsale e alta Puglia. Temperature in minima e in aumento, massime in lieve calo, ma vediamole nel dettaglio. Campobasso minima 12, massima 22 gradi. Isernia minima 13, massima 23 gradi. Termoli minima 15, massima 23 gradi. Il meteo è stato offerto da Signora, dico a lei, ha conseglie, assegni, spendi e risparmi di Molise TV? Corri a fare la spesa, spendi e risparmi conviene. Spendi e risparmi non sono sconti, ma veri e propri assegni spendibili. Con noi la famiglia raddoppia gli acquisti. Dai un calcio alle rinunce quotidiane. Spendi e risparmi di Molise TV e la famiglia torna a sorridere. Danni e risparmi non sono sconti, ". Thatu non sono un domenico come per i settia pubanti. Grazie.